Potevamo fare un bel lavoro con un altro candidato, l'avevo detto, ma gli avevo detto anche lui direttamente, una persona per bene che però non capisce che la politica è altro, cioè che non basta avere i soldi per vincere, saranno anche quelli, ma serve un progetto, bisogna costruire un percorso prima di anni. Responsabilità del partito ma soprattutto del candidato? Il primo è il candidato perché nessun partito gli ha puntato una pistola alla testa per candidarsi, quindi ha fatto bene ad assumersi le responsabilità, la responsabilità è, innanzitutto quando un candidato perde è del candidato. Di fatto la Lega non è più rappresentante del Consiglio Comunale perché Ubaldo è un carissimo amico, gli voglio bene, ma lui non è della Lega, lui è un percorso completamente diverso. L'altro esponente che è entrato in Consiglio ha girato diversi partiti, se però la condizione è che diventa leghista perché si fa la testa, siamo completamente fuori strada. La Lega purtroppo è dal 90, chiaro in Consiglio, non ci sarà più. Da dove si riparte? In questo momento non so quello che rimane a Padova come Lega. Bisogna ricostruire, bisogna partire da più sezioni su ogni quartiere e soprattutto ripartire dalla partecipazione.